Parliamo con Alberto Bazzoli, presidente della Proloco di Roncone. Qual è la sua opinione in merito al processo di fusione che sta interessando i comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone? Dal mio punto di vista, che riguarda anche la Proloco, la fusione secondo me è molto positiva perché darebbe sicuramente la possibilità di migliorare i servizi e anche la qualità dell'offerta del nostro territorio che secondo me ha un potenziale enorme e poi anche le manifestazioni potrebbero salire di livello, avere una qualità sicuramente migliore perché con l'unione del Proloco si può aggiungere comunque novità diminuendo anche i costi magari. Già da anni comunque anche la nostra Proloco con il Carnevale, con la fusione del Carnevale ma anche altre iniziative ha collaborato con la Proloco di Bondo, Breguzzo e anche Lardaro con risultati molto soddisfacenti e quindi questo penso che sia un buonissimo punto di partenza per la fusione tra i comuni. Grazie a tutti.